Facciamo una foto? Sì, ma non facciamo una foto se c'è questo, se non si toglie. Vediamo che succede. C'è il cerimoniere che apre la porta. C'è il cerimoniere? Niente. Niente, non si girano. Nooo. Nooo. Vabbè, questi erano pure osservatori romani. Nooo. Vabbè. Planolino. Vabbè, tutti. Grazie. Grazie. Grazie.